. Paolo Crivellin sceglierà Angela Caloisi a Uomini e Donne? L'indizio Vinzuiden. Arrivano sorprendenti news dai protagonisti del trono classico di Maria De Filippi. Ritorniamo a parlare di uomini e donne e lo facciamo occupandoci di alcune succulenti news riguardanti il cancelletto trono classico dello show. Come tutti ben sappiamo in questo momento i tronisti in carica del programma di Maria De Filippi sono quattro e sono Nilou Faradati, Sara Affifella, Nicolo Brigante e Paolo Crivellin. Mentre i primi tre ragazzi citati sono diventati tronisti da poco settimane, stessa cosa non possiamo dire dell'ex tentatore di Temptation Island che ha iniziato invece il suo trono lo scorso fine agosto. . Per questa ragione è lecito pensare che sarà proprio lui il prossimo cancelletto tronista a fare la sua scelta nello show nelle prossime settimane. . A sostenere questa tesi però non cè soltanto la speranza dei fans di uomini e donne ma soprattutto sembra esserci un indizio che indicherebbero nettamente un'imminente scelta del Crivellin. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. La scelta di Paolo. . 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